Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Francesca. Allora nel video di oggi ho pensato che sarebbe stato carino fare insieme la nostra trousse da viaggio, la mia, la nostra, insomma, condividere questo momento dove andrò a scegliere i trucchi che mi porterò in vacanza perché, ebbene sì, incredibile ma vero, chi l'avrebbe mai detto? Alla fine andrò anche io qualche giorno via. Qualche giorno al mare fa sempre bene e quest'anno chissà, forse anche qualche giorno in montagna e non vedo l'ora. Se siete curiosi di vedere che cosa metterò nella mia trousse da viaggio, quali trucchi sceglierò di portare con me in vacanza, continuate pure a guardare questo video, ma prima ricordate di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina delle notifiche e perché no, se vi va, di seguirmi anche su Instagram. Ve lo lascio qua sotto. Ok, molto bene. Allora, siccome non sapevo come avrei potuto fare a portare la videocamera nella zona, nel mobile dove tengo tutti i miei trucchi, ho deciso che avrei portato qua tutti i miei trucchi. Quindi io mi sono munita della mia trousse da viaggio. Partiamo da ogni singola categoria di prodotto e vediamo che cosa mi porterò e se mi porterò qualcosa per quella specifica categoria. Direi di cominciare con i primer. Allora, qui dentro ho tutti quelli che sono i miei primer. In realtà ho anche due spray fissanti. Allora, come primer più opacizzanti, comunque riempitivi per i pori, io ho il Pore Perfecting Primer di Makeup Evolution. Questo qui si capisce meglio. Il Pore Filler di NYX. Leather Matte Poreless Priming di Becca. E infine il Pore Refiner di Bioderma. Allora, di sicuro un primer riempitivo me lo vorrei portare perché metti una sera fuori, una cena, un qualcosa, secondo me ci potrebbe stare. E tra tutti decido di portare il primer di Makeup Revolution. Questo qui è praticamente fatto così. È una cremina che voi dovete andare a prendere col dito. È praticamente una pomata, quasi. Ed è quello che mi regala il miglior effetto riempitivo. Quindi questo di sicuro viene con me. E invece, come primer più illuminanti, ho questi qui. Yaluronic Hydra Primer di By Terry nella Travel Size. Il Revolution Glass Skin di, appunto, Makeup Revolution. Il Rosa Flash Balm di Pixi. E il Glow Boosting Pore Minimizing Primer di Essence. Che va sia a riempire i pori, ma anche a dare un effetto luminoso all'incarnato. E vi dirò, allora, escludo questo quindi la boccetta di vetro perché io ho il terrore di portarmi in giro, in viaggio, soprattutto prodotti che sono contenuti in packaging di vetro. Quindi quello lì lo escludo e fra tutti penso che mi porterò il primer di By Terry perché è quello più effetto crema viso che ho, molto idratante, molto leggero, abbastanza luminoso, ma non eccessivo. Quindi questo viene con me. Passiamo ora a quelli che sono i fondotinta e se non l'avete visto nel mio penultimo video vi ho parlato di tutti quelli che possiedo io, ve lo lascio qua nelle schede. Vi ho fatto una mega carellata di tutti i fondotinta che ho e vi ho raccontato un po' cosa penso di ognuno di questi. Quindi andiamo abbastanza veloci. Airbrush Flawless di Charlotte Tilbury, l'Hydra Foundation di By Terry, il Power Fabric di Giorgio Armani, il Transformist di Astra, lo Stay Naked di Urban Decay e il Close Up Futuristic Foundation di Nabla. In realtà ho anche la Bear With Me ma questa è realmente troppo troppo chiara quindi non potrei portarla comunque. Eliminando quelli che hanno le boccette di vetro tolgo quindi il fondotinta di Armani, quello di Charlotte Tilbury, di By Terry, di Astra. Mi rimangono fuori quindi quello di Nabla e quello di Urban Decay. Voi lo sapete che io lo amo questo, sono molto tentata. Questo è molto leggero, molto piccolino quindi pratico da portarsi dietro e in più avrei anche la mini size del colore perfetto per me per l'estate, però tende un pochino a lucidarsi dopo 4-5 ore. Questo invece mi regge meglio quindi considerando il periodo comunque estivo e se considero anche eventuali cene fuori quindi foto e quant'altro di sicuro preferisco questo qua di Urban Decay quindi questo me lo porto sicuro. Anzi facciamo così mi porto sia lo Stay Naked di Urban Decay che dovrebbe andare bene come colorazione così com'è ma nel caso fosse troppo scuro o troppo chiaro a seconda di quella che sarà la mia abbronzatura magari mi porto anche questi così lo vado eventualmente a mischiare. Passiamo ora a quelle che sono le ciprie per il viso. Io ho la Toscan Sunshine Press Powder di Kiko e questa qui è una cipria diciamo luminosa quindi non completamente opacizzante, la polvere di riso di Astra, la Brighten Up di Essence e la Universal Powder di Fenty che come vedete è più che usata. Allora fra tutte queste penso che mi porterò la cipra di Fenty perché ovviamente è compatta quindi più comoda da portarsi dietro rispetto a una polvere libera come questa. È comunque bianca e trasparente quindi nel caso anche dovessi abbronzarmi, cambiare di tono andrebbe in ogni caso bene e in più la cosa che mi piace è che al suo interno ha una specie di spugnetta perfetta per fare i ritocchi quando si è in giro. Non posso farvela vedere perché mi è caduta per terra però c'è, è molto comoda quindi mi porterò questa qui con appunto quella spugnetta per i ritocchi. Ok poi per quanto riguarda invece bronzer, lash e quant'altro e anche illuminanti allora io come illuminanti singoli ho Venere di Basic Gaia che adoro, è bellissimo quindi se vi capita come formula è fantastica compratene uno. Il Mary Luminizer di The Balm e ho in crema il Gelly Highlighter di Makeup Revolution. Questo è davvero bellissimissimo. Allora sempre per la stessa logica questo non me lo porto dietro perché è in vetro e ho troppa paura. L'illuminante di Basic Gaia è un po' troppo chiaro soprattutto quando mi abbronzo. A proposito di questo, che colorazione mi consigliereste dei Basic Marble di Gaia per una carnagione chiara che però tende ad abbronzarsi un pochino. Quindi Venere è troppo chiaro di cosa potrei prendere di leggermente più scuro ma non troppo scuro perché più o meno il livello è quello. Quindi tra questi l'unico che potrei portarmi è forse il Mary Luminizer che è leggermente più scuro. Come bronzer di sicuro mi porto il Matte Bronzer di NYX nella colorazione medium perché è perfetto per me per l'estate, l'avevo comprato apposta quindi questi due me li porto sicuro. Di sicuro mi porterò anche una palette viso perché comunque a me piacciono, le adoro e io possiedo o la Kali Contour di Smashbox che è questa qui dove appunto ci sono blush, bronzer, due illuminanti, uno più chiaro, uno più scuro, cipria per fare un po' di highlighter e contour, terra da contour. Altrimenti ho la Peach Romance palette di Astra che è questa qui e anche qua abbiamo bronzer, illuminante, blush e cipria per andare a illuminare le zone. Tra le due di sicuro decido di portare quella di Smashbox perché ci sono anche più varianti di illuminante nel caso anche il Mary Lou fosse troppo chiaro, qui ho quello più bronzato, la terra è un pochino più scura rispetto a questa qua di Astra quindi in ogni caso potrebbe andarmi meglio e cosa molto importante ha uno specchio, fondamentale quando si va in vacanza perché non si può mai sapere in quale camera di albergo o in quale stanza uno finirà e con quale illuminazione e con quali specchi. Quindi questo assolutamente. Passiamo ora ai correttori e forse la categoria dove ho meno prodotti in assoluto perché come sapete ve l'ho raccontato tante volte nei miei video non ho ancora trovato il correttore della vita quindi piuttosto che rischiare di comprare tante cose e poi non innamorarmi mai di nessuna preferisco finire quelli che ho e poi comprarne altri. Allora come correttori ho il Pro Longwear Concealer di MAC nella colorazione NC25 che ho comprato l'anno scorso da utilizzare sul viso ma l'ho usato l'altro giorno è ancora un po' troppo scuro per me quindi penso che quest'anno non riuscirò a portarlo altrimenti ho i due correttori Conceal & Define di Makeup Revolution nella colorazione C2 che è chiarissimo e C8 che è più salmonato e lo uso per andare a correggere le occhiaie e poi ho lo Stay Naked Concealer di Urban Decay. Come sapete è carino questo correttore ma non mi fa impazzire di sicuro non vedo l'ora di finirlo quindi vi posso già dire con certezza che mi porterò questi due correttori in modo da andare a combinarli quindi rendere lo Stay Naked un pochino più scuro e al contempo riuscire meglio ad andare a correggere il blu delle mie occhiaie Per quanto riguarda le sopracciglia io ho il Sobrow di Makeup Revolution che è in condizioni indecenti quindi questo qui è il sapone per le sopracciglia ho il Gasha Brows Pot di Astra quindi per andare a colorarle e infine ho questo che è praticamente il mio kit ovvero qui all'interno ho un semplice gel fissante per i capelli extra forte e questo era un vecchio gel colorato per le sopracciglia che è terminato di Wicon. Io lo tengo perché ha lo scovolino molto molto sottile molto piccolino e quindi riesce perfettamente ad andare a pettinare le mie sopracciglia e vi dirò la verità, sarò onesta, penso che mi porterò questo kit, chiamiamolo così perché ho notato che con questo caldo la crema gel colorata di Astra non mi regge cioè proprio lo vedo che cola, si raggruma tutto, poi scivola via quindi col fatto che sono mesi che utilizzo anche l'olio di ricino che mi ha aiutato tantissimo a ridare volume, definizione alle mie sopracciglia e quindi riesco anche ad apprezzarle così, cioè io non le ho proprio colorate neanche negli ultimi video penso che andrò semplicemente quando ne avrò bisogno a mettere un po' di gel fissante per i capelli per tenerle in posa e basta, non farò più niente al massimo prima di partire mi tingerò nuovamente le sopracciglia per farle un pochino più scure e niente altro quindi porto questo set, questo kit e niente altro per le sopracciglia passando ora al primer occhi presumo che ogni tanto o qualche sera, forse, chi lo sa arriverò a fare un qualche look occhi e quindi diventerà indispensabile per me avere un primer quindi quali primer potrei avere? io ne ho solo tre ho il primer Eyes and Lips di Wicon che è N.I la P. Louise nella colorazione Rumor 0.5 e il primer potion di Urban Decay quello di Wicon lo lascio a casa perché tanto non mi dice niente ma assolutamente porterò questi due che come vi ho raccontato amo combinati assieme perché il primer potion mi aiuta a tenere sotto controllo l'oleosità della mia palpebra cosa che non riesce a fare la P. Louise ma quello che riesce a fare la P. Louise è andare a coprire completamente la mia palpebra aiuta ovviamente l'ombretto a essere più visibile, più intenso quindi questi due primer li porto assieme poi avrei anche questo trio di prodotti di neve che sono prodotti in crema tonalità per il bronzer, savanna, cultress, più per il contour e anche strawberry che è il blush so che in realtà in estate con anche la bronzatura e tutto i prodotti in crema tendono ad essere più belli ma considerando il fatto che probabilmente si dovrà usare la mascherina anche in molti posti dove andremo e considerando che ho la pelle missa grassa dubito che possano essere l'opzione giusta per me quindi questi tre penso proprio che li lascerò a casa e che li utilizzerò di più nel periodo invernale passiamo ora ai prodotti per gli occhi come matite occhi diciamo che ne ho tre almeno quelle che utilizzo maggiormente che sono le due Cupid's Arrow di Nabla nella colorazione 02 che è la marrone e 03 che è il colore diciamo più prugna e poi ho questa matita Beach Balm di Essence che è praticamente un blu elettrico tra queste tè penso che porterò con me la numero 02 di Nabla quindi la marrone perché è quella che si sposa un pochino di più con tutto in generale quindi porterò questa come eyeliner ho invece questi due questo qui che è il Subliminal di Astra e questo invece che è il Rimmel Exaggerate non lo so mai dire come vi raccontavo in altri video per l'applicatore che hanno e il modo di uso diciamo preferisco di gran lunga questo qua di Rimmel perché praticamente ha una punta che è piccolina e abbastanza rigida e mi permette di essere molto precisa e andare proprio a fare i dettagli quindi questo lo porto sicuro e invece come mascara diciamo che ne ho due questo è gigante ho il Subliminal di Astra che è praticamente finito cioè lo uso davvero per fare le ciglia inferiori e il My Toy Boy Mascara di Diego Dalla Palma nuovissimo ho realizzato un video tutto dedicato a lui ve lo lascio nelle schede questo è lo scovolino ed è il mascara che indosso in questo momento lo amo, mi piace tantissimo e ovviamente è il mascara che sto utilizzando in questo momento non ne ho altri perché sinceramente penso che avrebbe poco senso accumulare tanti mascara che poi si seccano anche velocemente e andrebbero forse un po' sprecati quindi ho lui mi porto lui con molto piacere passiamo ai prodotti per le labbra allora ho rossetti nude tendenti al diciamo marroncino neutro tendenti al rosato e ho anche quelli rossi partiamo dalle matite ho questa qui che è la Sculpting Lip Liner numero 03 di Astra che al momento è l'unica rossa che ho quindi questa la porto e poi ho due matite nude questa qui è la numero 32 di Astra che tende un pochino di più al rosato questa qua invece poverina è vecchia come il cucco ma funziona ancora da dio è la numero 11 in the nude di Essence e è praticamente il nude perfetto perché è realmente neutra quindi per questi motivi porto lei perché può andare bene diciamo con tutto come rossetti nude vi faccio vedere quelli che ho poverina è ancora pieno di colla non riesco a tirarla via questo qui è Lipnotize Liquid Lipstick di Astra nella colorazione Ambitious 01 è un pochino scuretto quindi magari per l'estate meglio di no poi ho il Wicon Long Lasting Liquid Lipstick nella colorazione 71 che è un bellissimo nude rosato molto molto carino e questo lo porto perché tra l'altro è anche molto confortevole e invece come rossetti in bullet ho il Matte Revolution Pilot Talk di Charlotte Tiburi che amo alla follia quindi assolutamente sì e il Metropolitan di Nabla anche questo più cremoso più confortevole dura di meno diciamo che il Pilot Talk vira più sul rosato questo invece è un pochino più neutro quindi li porto entrambi come rossetti rossi ho questo qui di Sephora nella colorazione 01 e questo qua di By Terry nella colorazione 9 Red Carpet e per tipo di colore, durata e facilità nell'applicazione penso proprio che andrò con questo qua di By Terry perché è stra comodo da applicare e poi da tenere indossato durante le ore siamo arrivati al momento delle palette e sono molto indecisa allora ho la Metropolitan di Nabla che è questa qui poi ho la palette di Astra la Warm Temptation questa qui con tutti i colori caldi la Vintage Vibes di Hazy Guy e Martina Damex con Cosmify effettivamente potrebbe essere molto carina perché ha degli opachi e ha neutri che su colorati dei metallizzati dei glitter potrebbe non essere male ho questa palette Reloaded di Makeup Revolution con tonalità più rosa-viola sempre di Makeup Revolution ho la palette super colorata la Forever Flawless Birds of Paradise con queste tonalità qui vi dico già che non porterò perché sono colori un po' troppo pezzerelli la Burn to Run di Urban Decay anche questa potrebbe essere perfetta perché ha tantissimi colori ma come sapete ve l'ho raccontato in un altro video sono un pochino cupi non sono così tanto luminosi e infine abbiamo la Tati Beauty Palette Volume 1 che è la mia palette preferita del cuore e amo tantissimo la follia questa qui secondo me è la palette più versatile in assoluto ma per un viaggio c'è da dire che è anche un pochino grande sono indecisa tra queste due palette la Vintage Vibes e la Metropolitan di Nabla perché sono quelle che contengono un pochino di tutto penso che porterò con me la Metropolitan di Nabla perché è la più piccolina occupa meno spazio è anche molto leggera quindi se dovete utilizzarla proprio per lo specchio e andare molto vicino comunque non pesa niente quindi non vi dà fastidio e come ho detto anche nel video recensione che se volete ve lo lascio qui in alto la trovo comunque una palette molto versatile come spray fissanti ne ho due questo qua di Skin di Nevia il Oil Control e il All Nighter di Urban Decay ragazzi non lo sto neanche a dire l'Urban Decay assolutamente è l'unico che funziona davvero tutti i brux che abbiamo selezionato che mi porterò con me in vacanza sono sicura che ne utilizzerò neanche un terzo forse se andrà bene utilizzerò il gel per le sopracciglia e il mascara ma vabbè insomma è sempre meglio prendere qualcosa in più che qualcosa in meno ho fatto anche direi una bella selezione spero tanto che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile vi abbia fatto divertire io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao